qui ragazzi come vanno questi tech 10 sono tosti perché sono non sembra ma essere ormai abituato degli stivali senza scarpetta sono molto rigidi c'è sicuramente uno stivale che necessita di un po di rodaggio anche perché notavo che rispetto alla versione precedente è stato rinforzato in vari punti qui per esempio che c'è un sistema molto simile a quello che c'è dietro sulla caviglia non so se si vede questo che prima c'era una parte in pelle praticamente senza rinforza in plastica e sicuramente necessitano di un po più di rodaggio cosa che con i sidi sinceramente non ho sentito ecco questi riprendete i tirati ritirate fuori dalla scatola gli usate via questi c'è un attimino da lavorarci però non è assolutamente un difetto anzi è un sintomo che comunque uno stivale che che col tempo manterrà le sue caratteristiche ecco perché se questi pronti via vanno già bene dopo un centinaio d'ore magari si lasciano anche un po andare parliamo sempre di prodotti in pelle di qualità assoluta ecco quindi non stiamo parlando di stivali da da 100 euro stiamo parlando di stivali che comunque di destino sono sui 500 sia per i alpinesta che per i sidi e conclusioni questi stivali sono ottimi hanno un grosso difetto il prezzo perché girando trovando anche dei modelli vecchi è veramente complicato trovarli a meno di di 400 euro 350 400 euro per i modelli vecchi questi che sono il modelli che sono il modello 2019 2019 2020 c'è almeno di 480 490 non vedi fanno neanche vedere che di listino mi sembra che siano a 500 e passa questi invece sinceramente mi hanno fatto un'ottima impressione sono molto belli e il prezzo comunque girando tra una balla e l'altra riuscite a trovarli a prezzi diciamo concorrenziali rispetto ad alpinesta e i prodotti di ottima qualità per uno che non vuoi spendere 500 euro per un paio di stivali questi sono un'ottima alternativa un ottimo prodotto e sinceramente sto vacillando è perché per anni ho avuto alpinesta ho avuto adesso fox che ho ancora ottimo prodotto come qualità prezzo è però questi sono belli e sono belli il prezzo è buono il prodotto è ottimo sono fatti bene sono confortevoli non lo so se devo dare dei punteggi diciamo che alpinesta è una garanzia sono anche forse gli stivali dipende dai gusti ma sono forse gli stivali più belli sul mercato prodotto è curatissimo cioè ci sono dei particolari fatti con una cura allucinante c'è un'evoluzione di questo stivale nel tempo che è incredibile è incredibile questo uno stivale forse un po meno curato nei nei piccoli particolari però diciamo che è un ottimo prodotto se devo essere sincero forse sul mercato questi sono i due prodotti al top di gamma in assoluto perché anche gaern sinceramente mi ha un po è un po deluso ecco dopo dipende uno cosa cerca se cerca se uno cerca uno stivale tradizionale con ancora il puntale in ferro largo comunque perché gaern è molto largo rispetto a questi modelli specialmente rispetto ad alpinesta è un'ottima alternativa diciamo che alpinesta cd e gaern per chi ha l'esigenza di un certo tipo di stivale sono i prodotti top di gamma adesso sul mercato cadete in piedi sembra un gioco di parole fatto riguardo degli stivali ma il succo è questo qui niente con questa indecisione totale non so quali tenere non so quali tenere sinceramente con questa indecisione totale vi saluto mi raccomando i si dice gli adatti fabio di mx live andate a dare un'occhiata al suo sito e alpinesta cia dati igor di mx generation uovro generation sono i nostri collaboratori storici sia per un prodotto che per l'altro sentite loro dite che avete visto questo video e vi faranno sicuramente un ottimo prezzo mettete like un commento fateci sapere cosa ne pensate se avete esperienza riguardo mi raccomando se avete voglia di fare un video come questi e come vedete molto semplice da fare è fatto su un furgone con i panni sporchi ieri quindi siamo dei barboni comunque come vedete è molto semplice a fare questi video fateci un video dove ci spiegate le vostre esperienze su questi prodotti e ve lo pubblicheremo con questo vi ringrazio e ci vediamo la prossima